Caramelle, caramelle perugina, così buone che vien da piangere a regalarle. Caramelle, caramelle perugina. Caramelle, caramelle perugina. Caramelle perugina, così buone che vien da piangere a regalarle. Sì, caramelle perugina sono vere specialità. Rossana, ripiene di morbida crema, fondenti alla frutta. Chi ha detto che piacciono solo ai bambini? Doppia menta, freschissime e forti. Caramelle perugina, vien da piangere a regalarle. Un'altra volta, comprali anche per te. Partono da 400 lire e sono caramelle, caramelle perugina.